Giuseppe Ungaretti L'infanzia, l'adolescenza in Egitto ad Alessandria d'Egitto Questo per noi è abbastanza significativo, ne riparleremo quando leggeremo la poesia I fiumi E comunque ricordiamoci che il primo titolo che diede Ungaretti alla sua prima raccolta fu Il porto sepolto Dobbiamo sapere infatti che sotto Alessandria d'Egitto nel mare prospicente a questa città vi è un porto sotto il mare E quindi questo senz'altro potrebbe aver ispirato Giuseppe Ungaretti Poi, quindi abbastanza giovane, egli si trasferì a Parigi Siamo agli inizi del secondo decennio del 1900-1912 Giuseppe Ungaretti si trasferisce a Parigi dove approfondisce i suoi studi e la conoscenza dei movimenti culturali dell'epoca In particolar modo le avanguardie e il poeta Apollinaire che era un poeta avanguardista Un poeta che scriveva calligrammi, cioè poesie che anche visivamente facevano vedere l'oggetto su cui il poeta aveva creato questa poesia E comunque conosce anche tantissime altre avanguardie Nella poesia si chiamava Mohamed Shehab Parla di un suo amico che probabilmente è vissuto con lui a Parigi In questi appartamenti di giovani universitari, chiamiamoli così Per esempio gli appartamenti degli universitari fuori sede E che si era tolto la vita Senz'altro questa fu un'esperienza importante L'esperienza di Parigi, come dice ancora una volta nella poesia I fiumi Fu quella che fece conoscere Ungaretti se stesso E anche dice che In quel torbido mi sono rimescolato e mi sono conosciuto Quindi queste esperienze molto contrastanti Quindi come avevo detto questo amico suicida Queste esperienze di avanguardia L'euforia e l'insieme di esperienze e di emozioni contrastanti Senz'altro un grande centro culturale Parigi era una città che era un centro culturale fondamentale Nell'Europa del tempo Cambiarono radicalmente, trasformarono Giuseppe Ungaretti E lo fecero maturare Ma forse l'esperienza che l'ha fatto maturare di più E' quella della guerra Lui era un interventista Addirittura da Parigi Egli aveva già dei contatti con i futuristi Poi conosceva Braque, Picasso I futuristi l'avevano forse convinto Insieme ad altri movimenti, ideologie Che allora erano molto in voga Ideologie nazionaliste L'avevano convinto che la guerra era una cosa buona Erano i cosiddetti interventisti Quindi d'accordo con l'intervento dell'Italia nella guerra Quando l'Italia entrò in guerra Giuseppe Ungaretti era lì pronto ad arruolarsi Anche se era un po' più anziano rispetto agli altri Che dovevano fare soldato obbligati perché erano di leva Quindi volontario Si arruola volontario perché è convinto che la guerra sia una cosa buona La guerra diceva infatti anche Marinetti E' l'igiene del mondo Serve per sistemare tante cose Poi appunto lui era un nazionalista Quindi c'erano ancora delle terre Si chiamavano irredente Cioè Trentino, Venezia, Giulia Che non erano ancora state Annesse allo Stato italiano E quindi lui è convinto di questa cosa Fa il caporale perché sapete un po' più anziano degli altri Gli danno un piccolo grado Ma dire caporale o dire soldato semplice E' più o meno la stessa cosa C'è poca differenza Ebbene lui che era un convinto interventista Vedremo farà delle poesie Che sono delle poesie più antimilitariste Che ci possano essere Che possano essere scritte La prima guerra mondiale Fu una guerra particolarissima Cioè una guerra in cui tu eri in trincea E avevi il nemico lì di fronte Che era l'altra trincea E tu non sapevi se arrivavi a avere la fine della giornata Perché? Perché i tuoi capi I tuoi comandanti, i tenenti e i capitani Ti facevano andare all'attacco avanti Savoia Tu andavi e ti facevi ammazzare Perché ovviamente gli altri Che erano belli appostati Nascosti eccetera Ti miravano Cecchini E ti beccavano E tu E tu insomma Avevi finito di vivere Questa esperienza Mutò radicalmente Il modo di pensare di Ungaretti Che capì che la guerra Non era una cosa così Così positiva Anzi Capì che c'erano alcuni Forse i capi di Stato Di governo O alcuni che comunque Avevano deciso Sulle spalle degli altri Questa guerra Beh anche lui stesso L'aveva deciso Giusto? Perché anche lui stesso Era d'accordo Era favorevole Alla guerra In quella situazione In quella condizione Giuseppe Ungaretti Scrisse la sua prima raccolta poetica Abbiamo detto che all'inizio si chiamava Il Porto Sepolto Pubblicata nel 1816 Dopo un anno di guerra Lui aveva fatto Come vedremo infatti Molte delle sue poesie più significative 80 copie Il testo poetico forse che ha rivoluzionato di più La storia della poesia italiana contemporanea Fu pubblicato in 80 copie Poi verso la fine della guerra Ripubblicò questo testo Integrandolo con altre poesie Che aveva scritto dopo il 16 Nel 19 con il titolo L'allegria di naufragi E infine nel 31 diede il titolo definitivo Che è il titolo dell'allegria Come sono poesie di guerra Come vedremo sono poesie in cui parla della morte E' il titolo dell'allegria C'è un motivo Il motivo è ben preciso Cioè Proprio in quella situazione Proprio in quella condizione così estrema Di un'esistenza umana Come vedremo Buttata lì Quindi Scaraventata In quella situazione In quella condizione così difficile Proprio in quella situazione Lui ha recuperato Ciò che è più autentico Ciò che è essenziale nella vita Ha recuperato il valore E forse il senso della vita Ecco quindi questo qualcosa di positivo Da questo abisso Da questo porto sepolto Immerso nelle profondità Egli è risalito Per portarci la parola Una parola che ha recuperato Tutta la sua valenza Tutto il suo valore Tutta la sua importanza E pregnanza Quindi La poetica della parola Il valore assoluto della parola Per Ungaretti La parola è importantissima Addirittura vedremo Nella prima lettera Sono importanti Le lettere dell'alfabeto Recuperare le lettere dell'alfabeto Con le quali sono composte le parole Le parole che da sole Vanno un verso Le parole che sono isolate C'è una pagina bianca O gialla Perché allora O erano gialle Oppure col tempo Si ingiallivano Su questa pagina bianca Si staglia Si evidenzia Una sola parola Poche Pochissime parole Come centellinate Come quando noi distilliamo Per esempio Dal vino Si distilla la grappa Quindi dal vino Che Puoi berne Un bicchiere Anche due Si distilla la grappa Che è una sorta di concentrato Ebbene La poesia di Ungaretti è così Come la grappa Qualcosa che ti scuote subito Ed è subito fortissima Ed è E ne basta poca Ne basta pochissima Non come Vino Berra Se ne beve Coca Cola Eccetera E' così Il paragone è questo ragazzi La parola di Ungaretti E' una parola pregnante E' una parola significativa E' essenziale Quindi è preziosissima E' come un distillato Poi E' una parola Priva di ornamenti Quindi si va all'essenziale Delle cose Quali sono i sentimenti Che lui recupera Lo vedremo L'attaccamento alla vita Lo vedremo nella prima poesia Desiderio di innocenza Di solidarietà La fratellanza La comunanza Con gli altri uomini Quali sono le tecniche narrative Che lui utilizza Scusate Le tecniche poetiche ovviamente Che lui utilizza In queste poesie Tra l'altro E' più poetico Dei poeti Nel senso che Davvero E' uno che praticamente Non ha scritto altro Se non poesie Mentre Foscoro Leopardi Leopardi tantissimo Ma anche Pascoli Vedremo anche Montale Amavano la prosa Ungaretti ha scritto Solo poesie Amava La musicalità La musicalità Della poesia Il canto La poesia che canta Allora stavamo dicendo Le sue tecniche poetiche Sono La frantumazione del verso E questo lo vedremo Con la poesia soldati Prendi un settenario Lo spezzi a metà E fai due versi Questo giusto per sintetizzare Poi Riduzione di qualsiasi ritmo Per far emergere forme brevissime Spezzate Concentrate Poi ancora Le pause Importantissime Le pause I silenzi E quindi Per esempio Lo spazio bianco Lasciato tra una strofa e l'altra Anche questo è significativo Anzi I silenzi Gli spazi bianchi Sono talvolta più significativi Lui dice delle parole Ecco Lui veniva fuori Da un periodo In cui c'erano Tanti poeti Che scrivevano Poesie lunghe Lunghissime O Le poesie retoriche Di D'Annunzio O le poesie Dei Crepuscolari Molto molto lunghe Poesie narrate Lui invece Preferisce Caricare La parola Di grandi significati E quindi Selezionare le parole Ecco Quindi Lo sforzo Di matura La relazione Suggestiva Tra immagini E suoni Tra significato E significante Vedremo Le alliterazioni Vedremo Quindi Queste figure Di suono Le abbiamo già viste In pascoli Qui sono più limitate Però quelle che ci sono Ovviamente Sono significative Poi ancora Le domande Sul significato Della vita Egli parte Da una condizione Di ateismo Anzi Direi che L'esperienza Di Parigi Ha approfondito Il suo ateismo Quindi Arriva a questo abisso L'esperienza Della guerra Gli fa recuperare Un senso Un senso Un significato Della vita Fino al punto In cui Arrivò Negli anni Successivi Ad una conversione Quindi Il ritorno Alla religione Cristiana Poi ancora Nel periodo successivo Oltre a questa conversione Il fascismo Con cui ebbe Purtroppo Un rapporto Un rapporto Mussolini Addirittura fu Redattore Di un giornale Fascista All'estero Perché aveva questo desiderio Di ritorno all'ordine Alla tradizione E lo vide Sbagliando Lo vide Realizzarsi Nella politica Fascista Perché il fascismo Era un regime E quindi Magari Può darsi Che Alcune cose Tipo per esempio Un ordine Nella storia Nella politica Sia una cosa giusta Però se tu Poi dopo Impedisci Ad un altro Di esprimersi Poi picchi A morte Uno che La pensa Diversamente Da te Allora Diventi Oppressivo Come è successo Ai fascisti Che hanno Ucciso Matteotti Che era un socialista Perché la pensava Diversamente Da loro Poi sbagliandosi Perché Per questo Regime Una mancanza di libertà La libertà è importantissima Che cavolo E poi Per tutto quello Che è venuto dopo Con il fascismo In particolar modo Direi L'antisemitismo L'adesione alla guerra Quindi Per i disastri Che sono stati compiuti Durante il fascismo Senza togliere Alcune cose Positive Dal punto di vista Economico Dovete sapere Per esempio Giusto per dirne una Che mentre Tutto il mondo Nel 29 Subì un crollo Economico Tremendo Crollo della borsa Di New York Siccome Combinazione Lo stato fascista Era autarchico Quindi contava Contava solo su Le risorse I mezzi Italiani Combinazione L'Italia fu Uno degli stati Che sentì Meno La ripercussione Di questa crisi Economica E poi Se vai A Latina O a Lecce O in altri posti Sicuramente Ti diranno Che sono state fatte Delle cose Buone Positive Durante il regime Fascista A livello Di opere pubbliche Però Ripeto Rimane il giudizio Sostanzialmente Negativo Per quegli aspetti Quegli aspetti Della mancanza Di libertà Per il regime Tirannico Quegli regimi Tirannici Che siano Di destra O di sinistra Mussolini Pinochet Saddam Hussein Che Guevara Fidel Castro Questo Quest'atto Stalin Lenin Hitler Mussolini Sono sempre Comunque Da condannare Leggiamo Cosa dice Ungaretti In un articolo Del 1930 Spingendolo A modificare La sua poetica Prima scrive Le ho letto Poesie molto piccole Brevi Essenziali Poi scrive Scriverà Delle poesie Molto tradizionali Con gli indecasillabi Con la musicalità E l'armonia Della poesia tradizionale Lui dice Le mie preoccupazioni In quei primi anni Del dopoguerra Erano tutte tese A ritrovare un ordine Anche nel campo Dove per vocazione Mi trovo più direttamente compromesso Cioè la poesia La memoria a me pareva Un'ancora di salvezza Io rileggevo umilmente I poeti I poeti che cantano Non cercavo il verso Di Jacopone O quello di Dante O quello di Petrarca Cercavo il loro canto Ecco quindi che Potremmo dividere L'opera di Ungaretti In due Grandi momenti Primo momento L'allegria Questa poesia Innovativa Quindi sintetica Essenziale E secondo momento Tutte le altre raccolte poetiche Di Ungaretti Da sentimento del tempo In poi Che è una poesia Che riprende la tradizione Una poesia Che poi ha ispirato L'ermetismo Che fu una corrente poetica In italiana A cavallo fra le due guerre Ungaretti torna A utilizzare Il verso tradizionale Reintroduce La punteggiatura Prima Queste poesie Che leggeremo Dell'allegria Non ci sarà punteggiatura Costruisce le strofe Seguendo una sintassi Complessa Quindi prima c'era Un'essenzialità Un'immediatezza Adesso nelle altre poesie Delle altre raccolte poetiche Ci sarà una complessità Un'elaborazione L'ipotassi La subordinazione Non è più il poeta soldato La poesia di Ungaretti Rifletterà ancora Sul cammino dell'uomo Nella storia L'esperienza Della seconda guerra mondiale Rivissuta Quando lui poi capirà Ovviamente L'assurdità Del nazismo Del fascismo E sarà a Roma Perché prima Andrà in Brasile Dove perderà purtroppo Un figlio E sarà un'esperienza Molto brutta Questa per lui Poi ritornerà a Roma Acclamato Come accademico Ma durante la seconda guerra mondiale Assisterà A dei bombardamenti E quindi scriverà Ancora una volta Delle poesie Sulla guerra Così come aveva fatto Sulla prima guerra mondiale Anche se lì Era un soldato Nella prima guerra mondiale E qui invece Semplice spettatore E queste Ispireranno La raccolta poetica Del dolore Del dolore Ungaretti Poi non Non ebbe Il riconoscimento Del premio Nobel Che invece Ebbero altri Quali appunto Carducci Pasco Di Pasco Di Montale Quasimodo Eccetera Forse anche Per quella adesione Vi dicevo Per quella amicizia Proprio Addirittura Con Mussolini Che ebbe All'inizio Almeno del fascismo Cioè all'inizio Quando nacque Il movimento fascista Lui era insieme A questo movimento Poi dopo Ovviamente I sentiri Si allontanarono Anche perché Come abbiamo spiegato Un poeta Che scrive Delle poesie Sulla guerra Di questo genere Non può aderire Al militarismo Fascista Ti interessano File di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org E iscriviti Alla newsletter A scuola con Gaudio All'indirizzo www.gaudio.org Slash news